Hanno simbolicamente abbracciato Porto Agni Santi, il simbolo del portello. Loro, i piccolini del quartiere, hanno deciso di essere protagonisti e far capire quanto è importante che lo storico rione e padovano possa tornare a essere vissuto anche dalle famiglie, non solo dai gruppi di giovani che devono sfogare la sbornia dopo le feste nei tanti eventi programmati al portello nel periodo estivo. Eccoli mentre improvvisano un giro tondo. La più piccola imbraccia la mamma appena tre mesi, più grandi dieci anni, sono scesi in strada per la loro piccola manifestazione e mentre passeggiano in mezzo alla piazza pedonale, quasi a voler dire questa è nostra, ecco che ancora una volta i ciclisti incuranti del cartello che li invita a portare le bici a mano sfrecciano sfiorando i piccoli. Viva il portello! I genitori reduci dall'ennesima notte insonne. Un gruppo di ragazzi, le due di notte, ha improvvisato un concerto di bonghi sotto le loro finestre. Il messaggio che si vuole dare è chiaro, il portello è un quartiere per tutti ma ci deve essere rispetto. Un quartiere che piace, bello e vivo, a cominciare dagli studenti, che a noi piacciono tanto perché rendono vivo questo quartiere. Ci sono anche i bambini e le famiglie, è importante che tutti e due riescano a convivere, ci vuole un po' di compromesso tra il divertimento degli adulti e il benestare delle famiglie e dei bambini. Noi vediamo i ragazzi, a noi piace vederli, che si divertano. L'importante è che abbiano il limite, oltre il tot di tempo, delle due del mattino, eccetera, che si faccia silenzio, che quantomeno anche noi riusciamo a dormire. Loro si divertono e noi riusciamo a dormire e il giorno dopo andare anche a lavorare.